Un kit in cursore di trincea è disponibile vicino alla tua posizione. Abbiamo armato l'obiettivo Alpha. Abbiamo armato l'obiettivo Bravo. Abbiamo distrutto l'obiettivo Alpha. Dia, man, erste helfe. Dia, man, erste helfe. Abbiamo conquistato entrambi gli obiettivi. Attendi la fine dei colpi d'artiglieria nemici. Hat jemand von den Zon übricht? Grazie! Grazie! Attacca i nuovi obiettivi! Attacca! 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 Iamann, Erste Hilfe! Erfa, helfe per te! il nemico ha disarmato l'obiettivo bravo abbiamo distrutto l'obiettivo alfa abbiamo armato l'obiettivo bravo abbiamo conquistato attendi la fine dei colpi d'artiglieria grazie il fare un'administrazione come qualcuno Sì, 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 sì. Un kit sentinella è disponibile vicino alla tua posizione. Abbiamo armato l'obiettivo Alfa. Il nemico ha disarmato l'obiettivo Alfa. Abbiamo armato l'obiettivo Alfa. Sperre gesichtet. Abbiamo distrutto l'obiettivo Bravo. Da drübe ist ein feindlicher Schirmsoldat. Da drübe ist ein feindlicher Schirmsoldat. Abbiamo conquistato entrambi l'obiettivo. Stendi la fine dei colpi d'artiglieria nemici. Hat jemand munition? Un schmier. Attacca il mobile viettivo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guardate il testo! Abbiamo armato l'obiettivo bravo. Guardate il testo! Hier! Erste Helfe! Erste Helfe! Guardate il testo! Guardate il testo!